Allora, ripeto quello che abbiamo scritto, vogliamo definire innanzitutto che cos'è una contrazione. Allora, la situazione è del tutto generale, quindi non stiamo in R, non stiamo in Rn, stiamo più in generale in uno spazio metrico. Abbiamo uno spazio metrico x insieme a x con la distanza d e poi abbiamo un'applicazione da x in sé. In questa applicazione si dice contrazione se esiste una costante compresa tra 0 e 1, 0 incluso 1 escluso, tale che la distanza quando vado ad applicare f, f di x, f di y, x e y stanno tutti in x, quindi posso fare le distanze. La distanza tra le immagini deve essere minore o uguale, deve essere maggiorata da alfa volte la distanza dei punti di partenza. Quindi praticamente i punti dopo il fattore immagini si devono avvicinare. Si devono avvicinare che il fattore fisso, diciamo che questo per esempio fosse un mezzo, ogni volta che applico la funzione a due punti, la distanza tra le loro immagini almeno si dimenzia. Una contrazione è un caso particolare di funzione Ripschitziana. Se vi ricordate una funzione si chiamava Ripschitziana quando qua ci stava alfa, però su alfa non c'era nessuna condizione, cioè alfa può essere pure 10, ok? Invece in questo caso noi pretendiamo altro in più che alfa sia meno di 1, questa è una contrazione. Poi andremo a vedere con degli esempi, con degli esercizi, quando è che una funzione da R in R è una contrazione. Ok? Ok. Benissimo, quindi questa è la situazione. Allora, il teorema del punto fisso. Banach, Cancioppoli. Su molti libri è attribuito a Stefan Banach che era un matematico polacco, però su, per esempio, su tutti i libri di matematica, ci si è riportato davanti ai Taccioppoli, che era un matematico napoletano, cioè perché lo riportano nei libri russi e non quell'italiano? Perché era il nipote di Bacchino, quindi era di origine per metà. di Bacchino. Ok. È stato un grande matematico. Allora, cosa dice questo teorema del punto fisso? Dice, sia x di uno spazio metrico, f da x in x una contrazione. Il nome della funzione contrazione dà l'idea, no? Quando applichiamo f. La definizione l'abbiamo andata lì. Qual è la tesi? Esiste un unico punto insegnato appartenente a x, si chiama punto fisso o punto unito, tale che f di x segnato è uguale a x segnato. Quando avete una contrazione c'è un unico punto che rimane fisso quando andate a applicare la funzione. Non 2 o 3 o 10, 1 ed esiste. Esiste ed è chiaro? Oh. Cosa dice questo teorema? Se volessimo trovare un esempio un po' più semplice? Allora, immaginate di fare la foto alla lavagna e poi di appiccicarla sulla lavagna. Ovviamente la foto... Allora, chi è la funzione? La funzione è... Allora, io prendo la foto. C'è un punto che viene fotografato sulla foto. Quando lo vado a appiccicare sulla lavagna, quel punto va a finire su un altro punto. Allora, il punto di partenza x è il punto che sta sotto. Quando vado a riappiccicare la foto sulla lavagna lo chiamo f di x. Allora, cioè quando vado a riappiccicare la foto della lavagna sulla lavagna stessa, c'è, siccome quella è una contrazione, questa applicazione che appena deve finire una contrazione. C'è un unico punto che si trova esattamente a posto su. Per esempio, io faccio la foto della lavagna, allora questa attiva a finire sulla foto va a finire qua. Non va a finire a posto su. Ma c'è esattamente un punto, se per esempio l'appiccico su questa zona qui. C'è un punto di questa zona qui che va a finire esattamente nella posizione dove sta. 1 e 1. Chiaro? Ok. Quindi il terreno è chiarissimo. Si tratta adesso di farne la dimostrazione. La dimostrazione è molto utile. Questa qua è da studiare in maniera obbligatoria anche perché è una dimostrazione che si dice costruttiva. Così come quella che abbiamo fatto nel terreno degli zeri. Nel caso del terreno degli zeri noi abbiamo dato una dimostrazione costruttiva dove si costruiva una successione che convergeva a uno zero della funzione. Là, se la funzione era continua, cambiava segno su un intervallo, c'era meno uno zero, però uno zero non era unico. Però noi abbiamo dato un metodo di sezione per trovarne almeno uno. Anche in questo caso la dimostrazione è costruttiva. Ed è semplicissima. Questa dimostrazione, diciamo, il metodo è una dimostrazione. La dimostrazione vi chiede qualche rinno. Ma praticamente con un computer e se tu hai la contrazione, trovare, ma anche come vedremo con una calcolatrice, trovare il punto unito di una contrazione è facilissimo. Basta applicare una funzione d'arte a volte. Allora, dimostrazione. Qua lascio un po' di spazio, non ci faccio solo la dimostrazione, perché poi aggiungerò qualche dettaglio in più sulla tesi, perché si può dire ancora qualcosa in più. Però lo dirò dopo, per non fuorviarvi dal discorso principale. Allora, diciamo, sia x con 0, x con 0 è un punto di x, fissato arbitrariamente. Quindi, come punto iniziale, partite da dove vi vado? Allora, dico, vado a chiamare x con 1 per definizione, lo pongo uguale a x con 0. Poi prendi x con 2 per definizione, uguale a x con 1. E continuo in questo modo. Poi, xn più 1 per definizione è uguale a x con n, però n è partente a n. Quindi, continuo, dovrei dire n è unito a 0, però siccome x con 1 è uguale a x con 0, l'ho già definito. Comincio da x con 3. Allora, cosa ho costruito? Una successione x con n. Dove sta questa successione? Questa successione sta in x. Dico che il limite di questa successione esiste ed è proprio il punto che vado a chiamare. Ok? Quindi, cosa devo dimostrare? Devo dimostrare che questo limite esiste. Poi, una volta dimostrato che questo limite esiste, devo dimostrare che è il punto fisso. Poi devo anche dimostrare che di punti fissi non ce ne possono stare due. Ok? Allora, vado da questa parte qua. Allora, vado da questa parte qua. Adesso, queste tre cose non le voglio dimostrare in ordine. Voglio prima dimostrare che se il limite c'è, è il punto unito ed i punti uniti ce ne sta solo. Quindi voglio dimostrare il fatto che se il limite esiste è il punto unito e l'unicità del punto. Quindi, supponiamo che esista x segnato per definizione uguale al limite di scuola. Mostriamo che è f di x segnato uguale a x segnato. Infatti, noi abbiamo x con n più 1 uguale a f di x con n. Questo vale per ogni n. Allora, che cosa faccio? In questa relazione faccio tendere n a infinito. Allora, che succede? Allora, per n che tende a infinito, x con n è a chi tende? Per definizione abbiamo detto tende a x segnato. e x con n più 1 è come aver tolto il primo del limite. Quindi, non cambia l'interno. Quindi, quando qui faccio tendere n a infinito, questo tende a x segnato. E questo a chi tende? L'argomento tende a x segnato. Ma f è una funzione? Una contrazione. Quindi è l'ipsiziana. Ma se vi ricordate, l'ipsiziana era uniformemente continua. Era molto meglio che continua. Una funzione l'ipsiziana è sicuramente uniformemente continua. Quando io fisso y, per una contrazione è facilissimo. Se voi volete la distanza in arrivo minore di y, prendetela in partenza delta uguale a y. In arrivo a minore di alfa per y è il segnato. Quindi, questa qui è una funzione continua. Quindi, se l'argomento tende a x segnato, f di x con n tenderà a f di x segnato. Quindi, una funzione continua. Se x con n tende a x segnato, tende al dolo di f. Ma queste erano uguali, queste due successioni. E quindi, passando a lì, i limiti devono rimanere uguali. Cosa abbiamo dimostrato? Che è il punto di vista. Allora, dimostriamo che, supponiamo Per assunto che esistono due punti Quindi, li voglio chiamare con un'altra lettera perché sennò facciamo confusione con una... Chiamiamoli... Chiudi qua... Che esistono... Chiamiamoli... Vabbè, x è x x di ref da y tali che f di x è uguale a x è uguale a x ed f di x è uguale a x Due punti uniti, distinti Allora, andiamo a vedere che cosa succede Se io vado a fare la distanza di x da x Questa distanza è positiva perché i punti sono diversi Però, questa distanza è uguale anche alla distanza tra f di x ed f di x Per quale motivo x è uguale a f di x x è uguale a f di x Infine, siccome f è una condolazione questa poi deve essere minore o uguale di alfa volte per la distanza x da y Beh, allora a questo punto che cosa succede? Succede che avete 0 lo riscrivo qua sopra minore scusate, avete porto questo a sinistra quindi viene distanza di x da y per 1 meno alfa che è minore o uguale a 0 Ignorate questo Prendete questo Questo elemento portato da sinistra mettete in evidenza la distanza di x da y e mi rimane questa giuola questa giuola Ora però peccato che questo numero è positivo e questo vuole perché alfa era estremamente minore di 1 quindi il prodotto di due numeri così di chi dovrebbe essere un numero mega mega questo è assurdo ok benissimo quindi noi abbiamo visto che se questa successione converge se converge perché se non è una contrazione non è detto affatto che converge se converge deve converge verso il punto unito e di punti uniti non ce ne possono essere tutti ok andiamo a vedere perché converge torniamo qua indietro allora ricanciato qui allora cominciamo a vedere che ho dimenticato di dire una cosa qui ci vuole che lo spazio merito ovviamente ci stanno ricordati importantissimi deve essere completo se vi ricordate che cosa significa completo tutte le successioni di cosci devono essere convergenti adesso mi si è ok allora andiamo a scrivere la distanza di x con 2 da x con 1 e ricordiamoci della relazione che c'è tra x con 2 x con 1 e x con 0 cioè x con 2 sappiamo che è uguale a f di x con 1 e x con 1 è uguale a f di x con 0 poi ci ricordiamo del fatto che f sia una contrazione quindi questo qui è minare uguale di alfa per la distanza di x con 1 da x con 0 i x con n sono stati definiti come in precedenza come stava scritto su questa lavagna che ho cancellato poi andiamo a definire la distanza andiamo a stimare la distanza di x con 3 da x con 1 questa qui è uguale la distanza di f x con 2 da f x con 1 che è minore uguale di alfa volte per la distanza di x con 2 x con 1 però su questa distanza io so già che avevo questa relazione quindi applicando la riga di sopra io trovo che qua mi viene minore uguale di alfa per alfa fa alfa 4 per la distanza di x con 1 da x con 3 ok se adesso vado a calcolare la distanza di x con 4 da x con 3 questo è uguale alla distanza di f di x con 3 da f di x con 2 che è minore uguale alfa per la distanza di x con 3 da x con 2 ma questa già sapevamo che era minore uguale di alfa quadro per questa quindi alfa quadro per alfa farà alfa cubo per la distanza di x con 1 da x con 0 in generale quando rialrivo alla distanza di x con n più 1 da x con n e questa sarà uguale alla distanza di f di x con n da f di x con n meno 1 che sarà minore uguale per di alfa volte per la distanza di x con n da x con n meno 1 e questa qua sarà minore uguale o la distanza di x con n da x con n meno 1 era per ipotesi intuitiva minore uguale di alfa alla n meno 1 per la distanza di x con n da x con 0 vedete qui quando c'è x con 3 da x con 2 c'è alfa 4 x con 4 da x con 3 c'è alfa 2 x con n da x con n meno 1 posso mettere in veripotesi intuitiva che sia minore uguale di alfa alla n meno 1 per allora qua alfa per alfa alla n meno 1 per la distanza di x con 1 da x con 0 fa alfa alla n per la distanza di x con 1 da x con 0 quindi vedete che ogni volta che ho la distanza tra due elementi della successione successivi posso stimare la loro distanza con alfa elevato all'indice di quello più piccolo e la distanza di x con ok cosa mi succede quindi lo riscrivo su quest'altra lavagna una metà della lavagna dovrebbe bastare per il resto della dimostrazione lo riscrivo qua ok allora io ho che la distanza di x con n più 1 da x con n è minore uguale di alfa alla n per la distanza di x con 1 da x con 0 questo è vero per ogni n anzi per ogni n è 1 di 0 vabbè per n uguale a 0 è banale quindi ok in particolare che succede quando n tende a infinito allora questo è il numero fisico quando n tende a infinito alfa era strettamente qui questo tende a 0 questo maggiore uguale di 0 quindi la distanza va a dire 0 quindi quei due punti si avvicinano eh però questo non basta a dire che la successione sia convergente non basta neanche a dire che la successione sia di coscienza perché io so soltanto che si avvicinano un elemento successivo chiaro? ok però però andiamo a vedere andiamo a vedere la distanza tra x n più h e x più n h è un numero che appartiene a n quindi io per esempio la distanza da x n più 3x con n come la posso stimare? la posso stimare con la sguaglianza triangolare questa qua è meno uguale alla distanza x con n più alta da x con n più h meno 1 più la distanza tra x con n più h meno 1 e x con n più h meno 2 più puntini 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 fino ad arrivare alla distanza tra x con n più e x con n ci metto tutti quelli che ci mancano in mezzo uno alla volta ok per esempio se fosse x con n più 3 metterei x con n più 3 x con n più 2 x con n più 2 x con n più 1 x con n più 1 x con n e non ci sarei più punti se no se ha il matore di 3 ci sta chiaro? ok quindi come la posso scrivere questa qua? la posso scrivere come la somma per j che va da 1 da 0 ad h meno 1 della distanza di x con j più 1 da x con j allora guarda x n più j n più j x n allora vediamo se j è uguale a 0 qua viene x con n e x con n più 1 se j è uguale a 1 mi viene x con n più 1 x con n più 2 praticamente è la stessa somma letta da destra verso sinistra se j è uguale a h meno 1 cosa mi viene? x con n più h meno 1 x con n più h meno 1 più 1 se ne va x con n quindi è l'ultimo tempo ok? però io che cosa so? questo portiamo so che tutto questo è meno o uguale di somma per j che va da 0 fino ad h meno 1 di alfa alla n più j per la distanza x con 1 da x con 0 x con 0 ora però guardate che qua ci sono cose alfa la n più j e alfa la n per alfa la j alfa la n non diventa j la posso portare fuori anche questo che è una costante la posso portare fuori quindi qua posso scrivere alfa la n per la distanza di x con 1 da x con 0 per la somma per j che va da 0 ad h meno 1 di alfa la j e chi è questa qua? è la somma parziale di una serie geomaggia anzi della serie geometrica di ragione alfa quindi posso dire che questo è minore o uguale minore o uguale di alfa la n per la distanza di x con 1 da x con 0 per la somma per j che va da 0 a infinito di alfa la j perché se faccio la somma di tutta la serie viene di più è una serie del termine di disegno positivo e quanto fa questa somma? la somma di questa serie qua quanto fa? quando j è uguale a 0 sarebbe 1 più alfa più alfa quadro e questo è e quanto fa? 1 fratto 1 più alfa quindi qua mi viene alfa la n per la distanza di x con 1 per x con 0 fratto 1 meno alfa ricordiamoci da dove abbiamo da dove siamo partiti siamo partiti da qua quella distanza di è minore o uguale di questa distanza di questa quantità fissa ora notate che questa quantità fissa qui non dipende più da h questa dipende solo da n quindi la distanza di n più da x con n è meno uguale a questo la distanza di n più 2 da x con n è meno uguale a questo la distanza di n più 3 da x con n è meno uguale a questo quindi diciamo è chiaro che questo numero è più grande di questo quando ci mettevo n più 1 ottenevo la distanza con questo numero questo numero qua invece è più grande perché viene moltiplato per 1 fra 1 meno alfa che è una costante maggiore di 1 in compenso però se la distanza di x con n più da x con n è meno uguale solo del numeratore moltiplicando per questa costante adesso la distanza di x con n più 2 da x con n x con n più 3 da x con n tutti x con n più h da x con n sono tutti uguali più piccoli di questo questo che vuol dire vuol dire adesso dico sia y maggiore di 0 esiste un indice n tale che se n è più grande di n la distanza alfa la n per la distanza di x con n e x con n fratto 1 meno alfa è minore di x ci siamo fino a qui questa successione tende a 0 da un certo punto in poi sarà più piccola di ε ebbene questo mi dice che la distanza di x con n è più alta da x con n che è più piccola di questa ok? e questo vale per ogni altro questo cosa mi dice? è un altro modo modo leggermente diverso da quello che abbiamo detto noi a suo tempo ma è del tutto equivalente di dire che la successione è una successione di Cauchy cosa significa una successione di Cauchy? per ogni ε dove esiste un indice tale che quando prendevo m e m maggiore di quell'indice la distanza di sconere da x con m fosse minore di ε beh qua invece m invece di chiamarlo a n l'ho chiamato n più a va bene uguale perché semplicemente ordinato il tuo indice m ha preso n più a che ha preso il indice più grande va bene uguale la successione x con n è di Cauchy nello spazio x v adesso mi serve quell'ipotesi che ho scritto dopo che mi aveva dimenticato l'inizio come posso concludere siccome in uno spazio medico completo ogni successione di Cauchy è convergente pertanto esiste il segnato cioè il limite poiché lo spazio medico è completo diciamo esiste poiché x è uno spazio medico completo x va bene va benissimo questo concludo cosa posso aggiungere anche osservazione aggiungiamo quello spazietto che ci eravamo lasciati osservazione la distanza di x segnato da x con 0 è minore o uguale della distanza di x con 1 da x con 0 questo perché questo discorso qua io lo potrei fare anche con n uguale a 0 se ci vuoi ci metto n uguale a 0 trovo che la distanza di x con h da x con 0 è minore o uguale di distanza di x con 1 da x con 0 fratto 1 meno a quando passo al limite faccio tendere h di infinito x con h tende il segnato osservazione lo faccio qua dimostro l'osservazione abbiamo la distanza di x con h da x con 0 risulta sempre minore o uguale di h la distanza di x con 1 da x con 0 fratto 1 meno a ma quando h tende a infinito questa tende alla distanza di x segnata da x con 0 allora quella lì del riguardo l'ho ottenuta mettendo n uguale a 0 n uguale a 0 fa 1 e ottengo le sbaglianze adesso quando n tende a infinito che succede h tende a infinito x con h tende a segnato la distanza è una funzione continua la distanza è l'ebserzionale di costante 1 non è una contrazione e poi non va neanche da x in sepa da x in 0 di minore comunque qua succede che questo tende a questo questo è l'ebserzionale quindi la distanza è l'ebserzionale quindi lo ripeto cos'è una contrazione una contrazione è un'applicazione libserziana che avvicina i punti con la costante di libserzio tale che i punti si avvicinano ovviamente c'è un'altra ipotesi nascosta è che la funzione deve andare da x in x non deve andare da uno spazio x in uno spazio y verso da x deve andare da x in se va bene abbiamo sì la x in sta scrittura ci sta quindi deve essere un'applicazione da uno spazio in se e deve essere libserziana di costante libserz minore cioè della vicina a questo punto esiste un unico punto fis un unico punto che è rimane qua ok come si trova questo punto prendete un punto a piacere con x con 0 applicate f e trovate x con 1 applicate f e trovate x con 2 applicate f e trovate x con 3 continuate a applicare f quella successione vi conduce automaticamente al punto unico ok no da qualunque punto parchi conduce sempre al punto unico no? a qualunque punto unico quindi c'è il secondo unico chiaro? non solo questa osservazione qua che abbiamo fatto alla fine ti dice anche quanto vai lontano cioè se per esempio tu prendi x con 0 applichi f e trovi x con 1 se la distanza da x con 0 e x con 1 è mettiamo 5 e alfa aveva la costante alfa era un mezzo tu sai che per trovare il tuo punto unito sta all'interno della c diciamo della sfera in x rispetto alla distanza d dicendo di x con 0 e di distanza 10 oppure dicendo di x con 1 di distanza 5 perché questa cosa qua si potrebbe ovviamente riapplicare partendo se io invece di partire da x con 1 di fare la distanza x con 1 e x con 0 faccio la distanza tra x con 2 e x con 1 siccome questa è minore o uguale di questa per alfa allora ovviamente se parto da x con 3 e la costante alfa è un mezzo la distanza al punto unito si scenderà di un'ottata la stima almeno scenderà di un'ottata a un'ottata quindi è facilissimo oltretutto questa in in generale in generale quindi io posso scrivere che la distanza qui se qua ci metto x con n in generale la posso stimare cioè se fino a n sono andato avanti senza diciamo preoccuparmi da x con n voglio sapere quant'è la distanza dal mio punto unito allora basta che faccio f di x con n x con n più 1 vado a vedere la distanza di x con n x con n più 1 divido per 1 meno a fa quello è una stima ricordatevi che questa qui è minore o uguale di a fa la n per la distanza di x con 1 da x con 0 fratto 1 meno a quindi questa stima come decresce in modo esponenziale quindi questa qua va veloce a 0 quindi questo punto unito non solo si trova ma si trova velocemente non è che devi applicare la funzione un miliardo di volte la dovrei applicare molto per esempio anche se allora mettiamo come tolleranza noi mettiamo che a fa uguale a 0 9 quindi una contrazione anche leggera cioè non avvicina molti punti e mettiamo che la nostra tolleranza sia 10 alla meno 15 cioè vogliamo ci fermiamo quando mafab ci dice che la distanza è scesa almeno 10 alla meno 15 ok la distanza iniziale era 1 e quante volte dobbiamo applicare la nostra allora con una con una contrazione dell'ordine diciamo con la costante 0,9 praticamente il dimezzamento della distanza ce l'avete ogni volta che applicate la funzione circa 7 volte ok perché il tempo di dimezzamento ricordate l'esponenziale il tempo di dimezzamento no 0,9 significa come avere un interesse negativo del 10% 70 tra l'altro 10 fa 7 quindi ogni volta che applicate 0,9 alla 7 fa circa un mezzo ok farelo con la cattola che ci vedete quindi ogni volta che io applico 7 volte la funzione la distanza si dimezza all'inizio era 1 e c'è quando è che diventa 10 alla meno 15 beh ogni volta che si dimezza 10 volte guadagno un 10 alla meno 3 perché 2 alla meno 10 se vi ricordate è circa 10 alla meno 3 2 alla 10 è circa 19 è meno 24 quindi che significa se io per dimezzare devo fare 7 volte per dimezzare 10 volte devo fare 70 volte quindi ogni 70 volte ho 10 alla meno 3 per avere 10 alla meno 15 partendo da questo con la costante 0 a 9 devo applicare la funzione per le 150 volte sembra un'enormità ma non lo è per un computer non lo è non lo è affatto ok allora per fare una prova facciamo questa questa prova qui noi vedremo perché questo esercizio ha senso dal punto di vista delle contrazioni allora così vi faccio avere uno dice vabbè ma tutto questo a che serve? perché questo è uno dei problemi più utili in tutta la nostra ripeto di noi tutti che posso utili poi adesso andiamo a vedere un'applicazione banale ma per voi sarà la prima quindi per voi sarà significativa prendiamo la quadrice questo esempio mi sa che l'abbiamo già fatto anche se non ci rendevamo conto all'epoca allora la calcola dice impostate a rianchi allora ho x con 0 uguale 0 poi vado a fare x con 1 uguale coseno x con 0 che fa 1 ok faremo il tasto coseno mi viene poi faccio x con 2 uguale coseno x con uguale e vabbè i gradienti viene 0 3,5403 poi faccio x con 3 uguale coseno x con 2 uguale 0,8575 ok vabbè ora non li sto a scrivere tutti semplicemente premo il tastino della calcola lì stavamo x con 3 allora x con 4 x con 5 x con 6 x con 7 x con 8 x con 9 x con 10 x con 11 x con 12 x con 13 x con 14 16 17 18 19 20 allora x con 20 è uguale circa a 0.73 8 9 3 7 7 5 x con 21 è uguale circa a 0.73 9 1 8 4 4 5 che sta succedere? a che cosa? sta convergendo no? ah scusate devo ripartire da casa qui è inibì è autocadro 1 2 3 4 6 6 6 6 7 6 no? no? vedi? 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 vedi duro? se ho fatto bene i conti x52 è uguale circa 0, 63, 90 85, 1, 3, 3 e da qui in poi sulla calcolatrice vi da sempre ossessione quindi per me trovare il limite di questa successione ha significato, ovvero è un limite approssimato perché noi conosciamo soltanto le prime 9 cifre decimato però è vero di approssimato però quanto c'è costato farlo cioè per calcolare il limite approssimato ho dovuto semplicemente premere 53 volte un tastino a 52 volte un tastino ok? se lo facevo fare a computer quindi il computer andava in automatico doveva fare semplicemente 52 selezioni secondo voi quanto ci metteva? qualche milionesimo di secondi chi è questo limite? cosa risolve questo limite? quindi abbiamo visto praticamente che converge cosa risolve questo limite? chi è x con n più 1? è uguale a coseno di x con n quando n diventa infinito? allora questo x con n converge a x x con n più 1 converge a x e il secondo me è più con n coseno di x 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 allora questa cosa risolve questo esercizio che abbiamo fatto? allora prendete la funzione coseno e prendete la funzione x e ricordate di averlo già detto in analisi 1 che qua c'è un'unica soluzione dell'equazione x con la coseno di x questa equazione è quanta? c'è un'unica soluzione perché? tra 0 e pi greco è chiaro che c'è un'unica soluzione perché? perché questa sale e questa scende quindi la differenza questa meno questa è decrescente qua è positiva questa meno questa è crescente quindi qua è negativa 0 meno 1 fa meno 1 a pi greco è positiva scusate pi greco mezzi pi greco mezzi meno 0 fa pi greco mezzi quindi tra 0 e pi greco mezzi quindi tra 0 e pi greco mezzi la funzione sale è continua parte da un numero negativo arriva a un numero positivo e quindi c'è un unico 0 per il teorema di 0 ok? lo 0 allora questa la chiamate f x questa la chiamate g x in 0 pi greco mezzi f meno g è la funzione crescente è negativa qua positiva dall'altra parte quindi c'è una soluzione poi dopo non ci sono altre soluzioni perché da pi greco mezzi in poi la funzione f è maggiore di pi greco mezzi la g è compresa tra meno 1 e 1 e quindi la differenza non può mai essere uguale a 0 perché noi per dire f uguale a g stiamo studiando l'equazione f meno g uguale a 0 chiaro? se voglio studiare f di x uguale g di x o scrivo f di x meno g di x uguale a 0 è la stessa cosa ok? da quest'altra parte neanche possono essere uguali perché fino a meno pi greco mezzi questo è negativo questo è positiva non possono essere uguali prima di meno pi greco mezzi questa è minore di meno pi greco mezzi questa è compresa sempre da meno 1 e 1 quindi non possono essere uguali quindi però vedete abbiamo dovuto spezzettare il ragionamento allora perché perché allora sta cosa funziona uno potrebbe immaginare perché il coseno sarà una cos no che deve essere la funzione è così sarà una contrazione e invece no il coseno non è una contrazione perché se vi ricordate coseno x meno coseno di y no a chi è uguale è uguale a meno seno di xi la derivata di un punto intermedio per x meno x e poi c'è il valo assoluto quindi lo posso maggiorare con il seno di xi un punto intermedio per x meno allora il problema qual è? è che il seno di xi come lo posso maggiorare? solo con seno di xi in modo il seno è compreso tra tra meno 1 e 1 quando lo prendo in modo lo sarà compreso se la zero è 1 se la voglio maggiorare ci devo mettere per forza 1 quindi il coseno non è una contrazione perché? perché la costante vale proprio 1 allora perché questo sembra con me già esattamente come per una contrazione? perché attenzione qua è ragionamento un po' più sottile prendete la funzione coseno allora ho r ho x appartenente a r poi c'è la funzione coseno mi dà coseno di x che appartiene a r e non è una contrazione non è una contrazione perché quella in realtà dice no, lo è ma sei tu che non si è dimostrato no, non è proprio una contrazione con la disuguaglianza non si può migliorare in generale però se io prendo x compreso tra 0 e 1 e applico la funzione coseno e ottengo coseno di x io dico che coseno di x appartiene un'altra volta a 0 perché 1 sta qua più o meno ok tra 0 e 1 i valori del coseno quanti sono? in 0 era 1 però vanno a scendere quando arriva a 1 coseno di 1 non è arrivato a 0 è chiaro? quindi è sicuramente compreso in 0 e questo che significa? chi è il mio spazio x? è questo x grande questo qua a me mi serve soltanto che la mia funzione che in questo caso è la funzione coseno vada da x in sé quando prendo questo insieme qua ma non tutto r questa è una collocazione per quale motivo? perché stavolta faccio la stessa disuguaglianza di prima andiamo a fare coseno di x meno coseno di x questo è uguale anzi sì questo è proprio uguale fino a qua è uguale perché sto applicando la grange è uguale al seno di x in valore assoluto per x meno y dove x diciamo che x è meno di y e x è compreso tra i passi ok ma x e y non stavano in 0 e 1 quindi tutto rimane tra 0 e 1 quindi anche x che appartiene all'intervallo x y è compreso tra 0 e 1 ci siamo fino a qui? allora io ho chiamato x quello più piccolo allora siccome stavano all'intervallo 0 e 1 x è più grande di 0 e x è più piccolo di 1 x sta in mezzo quindi a maggior ragione pure lui è più grande di 0 e più piccolo di 1 quindi qua cosa posso maggiorare? posso maggiorare con il massimo per x appartenente a 0 e 1 della funzione seno di x vabbè all'assoluto non serve ma c'è lo lascio per x meno x ma questo massimo è uguale a tra 0 e 1 la funzione seno è crescente la funzione seno stavolta non coseno quindi questo chi è? esattamente seno di 1 per x meno x quindi vedete che ho trovato una maggiorazione con una costante per x minimo la sfera questa costante quanto fa? seno di 1 fa 0,84 a fa 0,84 quindi è minore di 1 quindi da questo spazio in sé in questo caso è un intervallo da questo intervallo in sé la funzione seno è una contrazione si dice che è una contrazione localmente in quella zona là ok? allora siccome quando la funzione va da quella zona in quella zona ed è una contrazione in quella zona cioè quando applichi il telema delle contrazioni a quella zona là cioè non esci da quella zona perché non mai quando applici la funzione così non esci da 0,1 qui dentro la funzione della contrazione che succede? per il telema della contrazione ce ne sta una soluzione ce ne sta un movimento premio il tastino e lo trovo quante volte devi premere il tastino? allora 0,84 vediamo se funziona 0,84 3 volte è 0,6 0,59 0,84 euro ok 6 volte 12 volte diventa un ottavo più o meno quindi quindi si applica la funzione 12 volte questa costante alfa la 12 fa circa una tappa che vuol dire? io voglio dovrò arrivare a quando è che si stabilizza il mio 14 quanto arriva? 10 alla meno 9 all'inizio ho partito da 1 perché i primi due punti erano proprio 0,1 quindi la distanza c'era proprio 1 vediamo quante volte allora 10 alla meno 9 è 2 alla meno 30 perché 2 alla 10 è 10 alla 3 quindi un ottavo alla 10 ok sì un ottavo alla 10 un ottavo è 2 alla meno 3 alla 10 ok quindi 10 per 12 fa 120 quindi il teorema mi dice che in 120 volte devo arrivare al punto unito ci sono arrivato sì quante volte ci sono messi un po' di meno 52 perché 52 perché in realtà se io vado a fare seno di questo numero qua questo qua non fa un ottavo non fa 684 ma fa 0,67 cioè all'inizio tu la stima la fai con un seno che può essere 0,8 quando ti avvicini ora vedremo vi faccio pure il disegnino quando ti avvicini mano a mano che ti avvicini cosa conterà? conterà la derivata della funzione coseno qua avvicini la derivata della funzione coseno qua avvicini ma lo stesso punto è la funzione seno ok? e la avvicino la funzione seno vale 0,67 allora allora eh eh soltanto che vabbè ora devo fare un lovetto insomma devo fare allora praticamente vediamo un po' se la costante fosse stata un mezzo avrei dovuto premere 30 volte e qua devo premere un po' meno del doppio delle volte più o meno se andate a fare i conti ovviamente quello il teorema non è funziona benissimo perché il teorema ti diceva soltanto e quella è una stima dall'alto quindi quando noi abbiamo detto in 120 volte si è arrivato al punto unito a meno di 10 o a meno 9 ci sono arrivati in 52 quindi il teorema va a funzionare se volete una stima migliore dovete usare la costante perché cosa succede? le prime volte per 2-3 volte c'è 0,8 poi appena vedete già a x uguale a 20 già ci stavo vicino a 739 0 è molto picchino capito? già dopo 4-5 volte la prima cifra decimale si stabilizza ok? allora uno dice ma questo teorema quindi ci serve per trovare il punto unito di x uguale a coseno di x allora come funziona questo teorema dal punto di vista grafico? anche questo mi sembra di averlo già fatto vedere però non sono sicuro allora come funziona? all'inizio vuoi partire da 0 poi calcolate questo punto qua questo punto qua che è è 0 1 cioè x con 0 x con 1 questa è x con 0 ricordate? poi quando calcolo coseno di 0 il punto che sta sul grafico del coseno chi è? 0 che è la scissa 1 che è il coseno di 3 ma 1 me lo trovo come ordinata però se voglio ricontare 1 sulla scissa cosa devo fare? dobbiamo andare qua perché siccome questa retta è y uguale a x qua sarà il punto 1 1 ok? adesso se invece mi sposto in verticale di nuovo sul grafico del coseno dove andrà a finire? andrà a finire su 1 coseno di 1 se adesso mi sposto di nuovo in orizzontale sulla retta x uguale a x dove andrà a finire? andrà a finire su questo punto che ha coordinato coseno di 1 coseno di 1 che sarebbe x con 2 x con 2 quindi vedete x con 0 x con 0 x con 0 x con 1 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 x con 2 x con 2 x con 2 è chiaro che procedendo in questo modo cioè io devo ogni volta dal grafico di y uguale a x andare sul grafico di y uguale a coseno di x in verticale e ogni volta spostarmi dal grafico di y uguale a coseno di x al grafico di y uguale a x in orizzontale che cosa si ottiene? lo vedete? una specie di ragnateva spirale che fa questa ragnateva spirale? converge a x segnato il segnale se voi prendete solo l'ascissa di questo di questo attività ottenete il segnale il punto o vediamo che lo so ok io direi che facciamo una tirata e ci andiamo a a questo punto uno potrebbe dire tanto mi sembra che non fa le cose proprio da me uno potrebbe dire andiamo a prendere un'altra un altro esercizio cioè prima cosa abbiamo fatto? abbiamo studiato l'equazione x uguale a coseno di x cioè il punto unito della funzione coseno ok? studiare i punti uniti è come studiare l'equazione f di x uguale a x allora andiamo a studiare il punto unito della funzione segnale segnale x uguale a x mi sapete risolvere questa equazione? allora questa è facile quella era difficile questa è facilissima l'unica soluzione è 0 in 0 x di 0 vale 0 fuori di 0 si vede che insomma tra meno pi greco e pi greco sicuramente non ci sono altre soluzioni neanche fuori di meno pi greco e pi greco ci sono altre soluzioni quindi è facile vedere che è l'unica soluzione quindi questa qui ecco allora io dico provo a fare la stessa cosa però vabbè non ci mettiamo x con 0 uguale a 0 no? perché sennò è banale è 0 premo seno viene 0 è chiaro che ho trovato la soluzione proviamo a mettere x con 0 uguale a 1 e andiamo a vedere quante volte devo premere la mia il tastino della mia calcolatrice per ottenere la soluzione allora cominciamo a vedere vabbè la c'è 52 qua la saranno forse un po' di più diciamo un cento un centinale ho messo uno i radianti uno due tre quattro ok ok un po' di più un po' di più un po' di più un po' di più x con cento o cento dieci non so se ne ho fatto qualcuno in più è circa 0,17 perché x con quello dieci prima era più di 0,17 questo qua è 0,769 ecco se andate a fare x con mille col fischio che è arrivato a 0 se andate a fare x con dieci mila perché la soluzione di questa equazione qua sta in 0 allora chi era una buona stima della costante di Lipschitz della mia funzione la derivata la vicino vi ricordate prima cioè la grande vale per valore o confusione f di x meno f di x è uguale a f primo di xi per x meno x dove xi è un punto intermedio se io so stimare la derivata automaticamente questa è di Lipschitz se la derivata è meno di 1 automaticamente questa è una valorazione posto che vado da x in sé chiaro? allora però qual è il problema? è che la derivata di seno chi è? coseno ma in 0 il coseno quanto vale? ah vale 1 quindi questa la funzione seno non è una contrazione come il coseno ma mentre il coseno dove c'era la soluzione localmente era una contrazione quindi quando ci andavi vicini partivi da 0 a 0 in quella zona il coseno agiva da contrazione e ti conduceva alla soluzione subito se vai a fare la stessa cosa con il coseno con il seno previnendo il seno è più uguale seno n siccome quello proprio là dove c'è la soluzione non è una contrazione non ci metti lo stesso tempo ma molto ma molto di più ci va bene ma a me che mi interessa vuol sapere il seno di 0 fa 0 eh ma ammetti che la funzione era più complicata non si vedeva occhio chi era la soluzione allora in un caso quando era una contrazione la giura da contrazione è la vicino la soluzione basta premere il tastino della funzione o farlo fare al computer non ci mette niente in quest'altro caso ci può mettere un sacco di tempo potrebbe anche non arrivare mai quante sono le interazioni adesso esercizio di analisi 1 x con n quanto sarà circa allora io dico faccio un ragionamento in parte che mi dico allora questo è un esercizio di analisi 1 allora suppongo che x con n sia sia circa diciamo sia dell'ordine di c su n alla su n alla gamma quindi si comporti come una costante fratto n alla gamma perché si comporta così? vabbè allora seno di x con n sarà seno di c su n alla gamma deve essere uguale circa a c fratto n più 1 alla gamma ok? ok allora uno per vedere che significa questo ciclo uno fa lo sviluppo di tetro allora seno di questa quantità quando gamma sarà un esponente positivo n va infinito quindi c su n alla gamma va a 0 quindi posso fare lo sviluppo di tetro vicino a 0 quindi a sinistra ci avrò c su n alla gamma meno x meno x cubo sesto quindi ci avrò un sesto c cubo fratto n alla trecana più 1 o piccolo di 1 su n alla trecana ok? dall'altra parte invece cosa avrò? questo è il membro di sinistra il membro di destra e vi ricordate che cosa si deve fare? poi si deve mettere in evidenza n alla gamma il minimale 1 più 1 su n alla gamma questo è c su n alla gamma che moltiplica 1 meno vabbè questo è 1 più gamma su n e questo quindi viene 1 meno gamma su n più piccolo meno gamma ok? quindi sviluppando qua viene c su n alla gamma meno c per gamma su n alla gamma più 1 più piccolo più 1 su n alla gamma allora io cosa voglio? vedete il primo termine si trova che è uguale il secondo termine possiamo fare in modo che sia uguale se no la cosa non funziona però possiamo fare in modo che sia uguale certo come facciamo a fare in modo che sia uguale? per fare in modo che sia uguale bisogna che siano uguali gli esponenti quindi 3 gamma che è uguale a gamma più e se no non si trova poi bisogna che c cubo sesti deve essere uguale a c per gamma perché se no non si trovano le costanti da gamma perciò ci voleva la costante c allora gamma quanto fa? gamma deve fare un mezzo perché 2 gamma vale 1 gamma vale un mezzo allora qua tolgo la c rimane c quadro e c quadro è s uguale a 3 quindi c deve fare radica a 3 positivo perché questa presuncessione è positiva o quindi seno di x con n sarà circa radice di 3 sui a seno uguale a 100 3 diviso 100 radice a 0 17 32 vabbè non è 0 17 0 17 0 però c'era vicino se lo fate con n uguale a 1000 uguale a 2000 questo è l'andamento sintotico esattamente di questa successione adesso sappiamo quant'è questa successione per arrivare a per arrivare a 10 alla meno 9 se io voglio avere che radica al 3 su n deve fare 10 alla meno 9 radical n terzi deve fare 10 alla 9 n terzi deve fare 10 alla 18 quindi n deve fare 3 e 10 alla 18 3 e quindi fino a che non si annullano tutte e 9 le cifre decimali della mia calcolatrice quante volte devo premere il tastino 3 miliardi di miliardi di volte è chiara ora la differenza? la differenza non è che lo fai tu a mano allora la differenza è che nel caso delle contrazioni lo fai quasi a mano basta che c'è una calcolatrice lo devi fare 100 volte calcolare 100 volte una funzione si fa pure con una calcolatrice se non è una contrazione mettiamo pure che ci sia la soluzione ma non è una contrazione può darsi che anche qua la soluzione c'è e si può pure dimostrare anche che quella successione converge quella successione converge perché seno di x è meno di x quindi quella successione decresce ma partendo da un numero maggiore di 0 se ne dici è anche maggiore di 0 quindi la successione è decrescente limitata dal basso deve avere il limite il limite deve fare 100 perché nel limite deve essere un punto unito quel ragionamento la fine del ragionamento quando c'è quella successione c'è limite il fatto che sia un punto unito non dipende più da una contrazione è automatico anche se f è una contrazione e il fatto che sia c'è una contrazione che ti dimostra che è al limite e ti dimostra che la distanza dal limite decresce esponenzialmente infatti qua decresce la distanza dal limite ma non esponenzialmente decresce polinomialmente anzi va come radical 3 su radical n e radical 3 su radical n non è abbastanza neanche per il computer anche per il computer dice ma io ho il computer nuovissimo ho speso 3000 euro per fare il nuovo computer ah boh 10 alla 18 se un'idealazione pure per la processa di un miliardesimo di secondo di secondo perché c'è il clock a 3 giga però una funzione di questa non sono tre operazioni ma mettiamo pure che per la processa di un miliardesimo di secondo sono un miliardo di secondi quanti anni sono? parecchi è chiaro? e quindi da questo punto di vista allora facciamo un attimo il riassunto fino a qua vediamo che cosa abbiamo capito abbiamo capito che ci sono dei casi in cui io ho una funzione equazione f da x in z e voglio studiare l'equazione f di x uguale a x questo è questa equazione può essere utile da studiare va bene qua perché era per l'esercizio vi ho detto cerchiamo dove cosen x uguale a x oppure dove cosen x uguale a x ok però vedremo che in altri casi sarà utile in maniera naturale vedremo lo appliceremo tra poco all'equazione differenziale che oggi e la settimana poi si faccia l'equazione differenziale chiaro? dice ma ancora non sappiamo che sono le equazioni differenziali eh però prima studeremo perché ci serve ok quindi vogliamo studiare quell'equazione quell'equazione si chiama equazione di punto fisso equazione di punto unito ed è un'equazione una delle equazioni più importanti della matematica per esempio per esempio ci sono altri casi in cui quell'equazione ne ha una soluzione ok se io faccio allora supponete di avere un cerchio poi fate un'applicazione dal cerchio insieme f da c in c f sul bordo di c è l'identità che significa allora qua ho fatto due copie distinte per cioè che i punti del bordo non si muovono cioè poi è come se aveste un disco di materia elastica c'è una roba elastica allora il porto del disco è fissato quindi voi potete solo muovere un pochino quello che c'è dentro ok poi sapete che f è continuo e in questa ipotesi esiste un punto unito magari non è unico perché se io prendo l'applicazione identica questa mi lascia tutto come sta quindi i punti uniti ce ne sono tutti quanti però ci deve stare almeno un punto unito perché? perché se non ci fosse il punto unito l'applicazione dovrebbe sviluppare un buco cioè da qua a qua dovrebbe fare un buco un buco permette di fare una retroazione cioè permette l'applicazione che combina non può strappare il disco non vi faccio la dimostrazione perché diciamo tanto questo non è fatto di fare la dimostra noi ci interessano solo le contrazioni queste ipotesi qua esistono quindi le contrazioni non sono l'unico caso ci sono altri casi in cui l'equazione di punto fisso ha soluzione ma la contrazione probabilmente è il caso più importante per quale motivo nel caso delle contrazioni punto fisso non solo esiste ma è pure unico ok esiste ed è unico non solo esiste non solo è unico ma si può trovare facilmente come si trova facilmente prendi un punto qualunque ci ha p che f tante volte e dopo un po' dopo qualche ceminale di relazioni probabilmente si è arrivato al tuo punto e vabbè però alla fine tutto questo per risolvere solo degli esercizi del tipo f di x uguale a x lo facevo pure questo lo facevo pure col metodo di bisezione però immaginate che lo spazio non sia uno spazio di numeri come un intervallo ma sia uno spazio di funzione ok allora l'altro ingrediente che ci manca per fare l'equazione differenziale è introdurre su degli spazi di funzione e introdurre una distanza opportuna sugli spazi di funzione per esempio se funzioni continuano ci dobbiamo mettere una distanza opportuna ok allora poi vedremo che questo ci servirà anche a fare le serie di funzioni ma successione di serie di funzioni però diciamo da un momento che vogliamo prima fare le equazioni differenziali a noi servirà soltanto definire una distanza su uno spazio di funzione nel momento in cui ho definito una distanza su uno spazio di funzione cosa può accadere? può accadere che una certa applicazione da uno spazio di funzione in serie sia una contra se vuole a quel punto un'applicazione da uno spazio di funzione in serie si chiama un'operatura ok un'applicazione diciamo tra due spazi numerici e due spazi lettoriali si chiama funzioni anche quella è una funzione però una funzione speciale una funzione che vada da uno spazio di funzione in R si chiama funzionale un'applicazione che vada da uno spazio di funzione in un altro spazio di funzione si chiama un'operatura per esempio la derivata di una funzione calcata in un punto è un funzionale la derivata di una funzione cioè l'operatore di derivazione cioè derivata di seno fa coseno opera l'interno della funzione di continuità si chiama opera perché prende una funzione e restituisce una funzione ok? allora andremo a vedere che quando noi andremo a impostare la nostra equazione differenziale l'operatore differenziale che corrisponde alla diciamo ci sarà un operatore differenziale un operatore che corrisponde alla mia equazione differenziale il cui punto unito è esattamente la soluzione della mia equazione differenziale ok? e questo ci aiuterà a dimostrare il tema di Picardi sull'esistenza di vicenda locale per la soluzione dell'equazione differenziale però questo qua è materiale della volta prossima allora prima di lasciarci ho detto 5 minuti prima abbiamo ancora 3 minuti l'unica cosa voglio cominciare a dire che cos'è una equazione differenziale poi naturalmente lo ripeterò lunedì allora un'equazione differenziale poi l'avete già studiato se io so che la derivata di F grande è uguale a F piccolo chi è F grande? come si chiama? F grande quali sono le funzioni che soddisfano queste equazioni? chi è F grande? no uno è F grande l'altro è F piccolo non è F grande F piccolo primo uguale a F piccolo è integrale di F di X no è integrale di F di X più ah più la rossa allora questa è la più semplice equazione differenziale voi sapete che la allora chi è la incognita F grande? chi è F piccolo da voi sapete che la derivata di F grande fa coseno chi è F grande? se più costante quindi diciamo l'integrale di definito è la F questa è una tautologia in realtà perché l'integrale di definito esattamente la primitiva è una di F però sappiamo già c'è qualcosa in più cioè il fatto che sappiamo che tutte le funzioni che mi danno questa derivata differiscono a meno di una costante a B a B quindi non va bene solo seno va bene anche se no più 1 se no più 2 se no meno 3 chiaro? ok va bene mo' quindi questa è l'equazione più semplice immaginiamo invece un'equazione un'equazione più complicata di questo tipo qua la ricoglie adesso non voglio che è più effeggata la chiamo è una funzione questa questa tra le equazioni differenziali ordinarie è praticamente pur essendo diciamo è l'equazione generale di un ordine in forma normale però sostanzialmente alla fine vedremo che più o meno in qualche modo ci si può ricondurre anche se abbiamo ovviamente anche questa qua che esiste poi questo discorso lo continuiamo alla prossima volta però vedete come funziona cioè io ho la x in ogni punto prendo la x calcolo il valore della y e poi ho una relazione che tramite una funzione che è la funzione della x e della y mi calcola la derivata allora a questo punto la funzione non può essere più arbitraria ma deve soddisfare questa relazione e quindi deve essere un certo tipo di funzione ovviamente non c'è solo una funzione che soddisfa questa relazione ce ne può stare una famiglia ok vedi questo caso qua è una famiglia tutte le quali spostate le proprietà insomma le definizioni precise le diamo l'onete perché adesso è finito il tempo è finito il tempo l'onete